La mala, pazza intera mala, è una gioia e attività che dura una vita, pazza intera mala. Di testa, pallone che termina alto sulla traversa, guagliarella, ha cercato di girarla dall'altra parte, sull'altro angolo, eccolo il cross di Brozovic, occhio a questa opportunità con Danilo Lamprosio che porta avanti di terra al ventitresimo, è 1-0. Insiste ancora la sampa, palla per Alvarez, a zona tiro, corre a col destro, reclama il fallo di mano, l'intervento era di Danbrosio, da rivedere. Eh, questo è il rigore, si è incazzo di rigore. Brozovic, dalla bandierina, con il destro, Felipe Melo, è di testa Miranda, poi Cardi, chiedono il gol a quelli dell'Inter, lo ha segnato Massa, può insultare l'Inter, è 2-0. Prima Felipe Melo, poi Miranda, è 2-0 Inter. Riccardi, prova a ripartire, tutta la potenza di Riccardi, supera la nocchia, Riccardi fino in fondo, è uno contro uno, con Diviano, Riccardi col sinistro, Mauro Riccardi, undicesimo gol in campionato, cost to cost, palla in piede, resiste alla carica, e batte col sinistro, Viviano, ed è 3-0. Quagliarella, prova lui, destro, primo gol, con la maglia della Sandoia, per Fabio Quagliarella, parete del 3-1 al 47esimo. Non c'è più tempo per l'arbitro Massa, è finita, 3-1, torna la vittoria all'Inter.